Con Nadia e Giaffini ci facciamo spiegare come si fa a preparare sia un 10.000 che una maratona perché tante volte la nostra bravissima Nadia è stata lì, 10.000 fortissimo, maratona questo 2012 che fino a Londra sembrava che è una bella partita fare due cose così diverse a questo livello così alto sì certo è una bella partita, tutto è diverso, la preparazione dei 10.000 è una preparazione a sé, la maratona è un'altra cosa quello che era successo nel 2012, geriamo pagina e a posto, adesso sono qua, sono serena, sono tranquilla, sto lavorando bene dicono che vai fortissimo, lo dicono le tue colleghe, lo dicono i tecnici no sono tranquilla, posso dire che nella sfortuna può arrivare anche la fortuna nel senso io ho preparato, ho fatto una bellissima preparazione con Claudio Berardelli in Kenya per fare la maratona in primavera, purtroppo 5 giorni prima ho beccato l'influenza quindi niente, è saltata la mia maratona e quella a base non l'avevo persa quindi mi sono trovata pronta a preparare, a affrontare questa preparazione per gli europei dove mi trovo, cioè sto bene fisicamente, sto bene di salute, le cose stanno andando benissimo beh speriamo di continuare così tra l'altro questo è il momento di lavorare forte, siamo qui a San Moritz quindi è il momento di caricare moglobina, di fare tutto questo grande pieno di ossigeno non mi è parso di capire sì sì sì, è così per quello siamo in altura, posso dire fino adesso, da gennaio adesso questa è la mia quarta quota che faccio, quindi sono stracarica, strapiene di glubuli, speriamo e niente, come diceva prima, sì, mancano quattro settimane all'appuntamento più importante stiamo lavorando, stiamo caricando ancora e le cose stanno andando bene non solo per me ma credo anche per tutto il gruppo, quindi speriamo in qualcosa di buono tra l'altro lì c'è un cartello che dice proprio Europei di Zurigo sarà un sabato 16 per voi donne sì e sarà un bel percorso con un po' di salita e un po' di discesa so che l'avete un po' testato qui sì, io non sono andata perché erano pochi giorni prima della mia maratona però il raduno precedente, eravamo al Sestriere, era una bella preparazione per questo percorso speriamo che serva ciao 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 ciao